E ora completiamo le voci dall'America Latina, dopo Panama e l'Uruguay, invito sul palco Euclides Manche dal Brasile, Solidarius. Euclides Manche è un filosofo brasiliano, uno dei principali teorici dell'economia solidale e della filosofia di liberazione in America Latina. Attualmente è il coordinatore generale dell'Istituto della Filosofia della Liberazione, un'associazione civile, no profit, che ha lo scopo di promuovere l'economia solidale e popolare e il ruolo della filosofia nell'educazione di base. Euclides ci parlerà di come sia possibile, di come stiamo lavorando per costruire mercati stabili e basati sul principio della solidarietà e come si debba dare priorità alla costruzione dei sistemi economici e di mercati locali. Euclides. Buongiorno a tutti e tutti, voglio parlare in spagnolo. Buongiorno a tutti, mi piace fare una critica molto clara della nozione di mercato, però per altra parte presentare anche di maniera molto concreta una alternativa. Quindi, voglio parlare per lo più concreto, per lo più immediato, e al final pretendo fare una riflessione un po' più di fondo conceptual, per parlare dei circuiti economici solidarii. Quindi, come si può organizare una economia locale che sia basata in l'attenzione delle necessità delle persone? La prima cosa è fare un mapeo delle necessità che ci sono nella comunità, quali sono le necessità delle famiglie, le necessità delle necessità delle necessità di economia solidarietà, perché anche le necessità delle necessità produttive. quali sono le necessità dei governi locali, cioè, quali sono i prodotti, i servizi che sono necessari per il buon vivere delle persone in un territorio. Dopo che si è fatto questo primo passo di mapeo, viene un secondo. Il secondo è fare l'analisi di quello che c'è di prodotti della economia solidarietà in questo territorio, o che cosa si può produrare in la economia solidarietà per ottenere queste necessità. Lembrando qui che la economia solidarietà deve produrare tutto. La economia solidarietà deve produrare smartphone, computazioni, avi, navi, cables di fibra, dell'autica, satelliti, la economia solidarietà come un sistema economico deve produrare tutto quello che è necessario per la vita delle persone. E' di questo che stiamo parlando, di una economia solidarietà, non di una cosa subalterna al capitalismo. Quindi, una volta che abbiamo fatto questi mapeos, possiamo fare un'analisi. Per le necessità che ci sono, che produzione già abbiamo, che ci sono, come si può organizzare il incontro delle necessità con le capacità produttive della economia solidarietà per garantire la liberazione delle forze produttive della economia solidarietà. E poi entriamo nella critica del mercato. Una volta fatto questo l'analisi, siamo al passo seguente. nel corso tutto l'analisi. Ci sono le facili ho realizzano le necessitano, che cosa ho dobbiamo a presente questo circuito economico solidario. Le necessitati delle economie solidarietà dicono in loro le proverazioni che ci possiamo provare. E quindi la necessità che ci sono vanno a celebrar contratos. Se facono contratos in un circuito, le famiglie si compromettano a comprare, i produttori si compromettano a attender e si organizano un circuito. Vediamo i passi per organizzare questo, organizzando un circuito local. Prima il l'elenco di partecipanti, quina famiglia si vanno a partecipare, qual è il plan di consumo di ogni famiglia e il compromesso che ho di comprare in questo mercato locale. Abbiamo a trovare una buona parola, se mi producono una parola, grazie molto perché stai cercando una parola e non ho trovato. È per una tienda, un negozio, una iniciativa, una botella, questo che è un punto di riferimento, di encuentro, dove siamo a avere questi flujo economico, questo luogo. Quali sono le famiglie che vanno a partecipare? Su contrato, che va a fare? Quali sono le famiglie che vanno a praticare? E questo è molto importante. Quali sono le famiglie che vanno a comprare in questo mercato locale? Questo è un valore che va a entrare in questo circuito locale. Però anche i servizi vanno a fare i contatti. Può ofrecervi tanto? Quali? Per quattro? Seze messe, un anno. Quali sono i valori? E quindi vi provare. E quindi abbiamo i contatti fatti. Però quali sono le margini che vanno a praticare? E questo è molto importante. Quali sono le margini che vanno a ottenere di valore come excedente? Che nel mercato capitalista si chiama lucro, profitto, gananze, lo che fuori. In la economia solidarieta abbiamo anche che trovare altre parole. Però questo è un margine importante per il sviluppo del stesso sistema. Quindi si fa il plan di viabilità di questo circuito, i costi. E quindi possiamo mettere in funzionamento questo. Quindi possiamo vedere come funziona. In primo momento abbiamo la gente che ha fatto la contratazione dei prodotti. Vanno fino all'inizio e facendo la aportazione di valore mensuale che va a un fondo di economia solidarietà. Questo dinero sta in un fondo. E riceve crédito. Che sono questi créditos? Sono signi di valore. Non sono moneda social, non sono dinero. Sono registro, sì? Può essere in un quaderno, in un server, può essere in alcun lugar. In una holla Excel. O meglio, in un calc, sì? De software libre. E quindi lo abbiamo all'inizio registrato. Muy bene. Però falta la gente di crédito perché io necessitavo consumir più e non ho il dinero. Però, senza problema. Se può generare più crédito a la persona. Però, da che abbia capacità con la sua fuerza produttiva di retribuire alla comunità con il lavoro il equivalente a questo crédito che si genera a lui. Quindi, si può generare un plus in crédito a la persona. Quindi, abbiamo la entrare dei produttori in questa tienda. Quando il produttore della economia solidarietà trae i produttori a la tienda, che si genera crédito a questo produttore anche per i produttori. Che gli dà il diritto di ottenere di questo circuito tutto quello che sia ofrecito in questo circuito. Quindi, abbiamo la necessità di comprare produttori da fuori, perché la economia solidarietà non produce tutto, è una lástima. Però, per comprare produttori da fuori necessitiamo di dinero e il dinero già sta nel fondo. Quindi, usiamo questo dinero per buscare i produttori da fuori. E quindi, vediamo come sono i produttori da fuori. Le persone vanno a buscare i produttori, e quindi con i produttori sacano i produttori. E deixano i produttori, è molto bello. E al final, se altri non hanno produttori, possono andare a buscare con il dinero. E sta molto bene, pagano con il produttori. Però, al final, come facciamo il balance di questo che abbiamo? Se la maggior parte dei produttori vengono da la economia solidarietà, va a sobrare dinero in questo fondo. Adesso di quella margine del 10% che abbiamo fatto, va a sobrare più di questo fondo. Perché i produttori da la economia solidarietà entran con crédito e salen con crédito. E quindi, cosa succede con questi excedenti che sono nel fondo? Siamo a dare a loro tre destinazioni. Una, per ampliare le forze produttori della economia solidarietà. Construire installazioni di produzione di quelle cose che ancora non abbiamo nella economia solidarietà. Seconda, ampliare il volume di produzione per atteggiare le necessità della comunità. Perché possiamo andare più allà di quelli che già sono integrati nel circuito. E la tercera parte, per fare che cosa? Per distribuire di maniera gratuita questi produttori. Non possiamo cobrare nulla. Il capitalismo distribuisce di maniera gratuita molta pubblicità. Distribuisce di maniera gratuita molta informazione. Miles e mille di dollari gasto in questo. La economia solidarietà può entregar il prodotto di grasse. Perché possiamo dare il prodotto di grasse? Perché c'è un plan di consumo contratato. Questo che è stato contratato ci garantisce la produzione e poter avere un excedente che permette distribuire di grasse il prodotto. Però vediamo nella pratica che questo potrebbe essere. In 2012, le 3.000 maggiori cooperativi del mondo avvarono una ricetta di 2.6 milioni di dollari. Non sono mille di dollari, sono mille di dollari. Questo è più che il prodotto interno brutto di Brasile. Ha stato la ricetta delle 3.000 maggiori cooperativi del mondo. 10% di questo ci ha dato 260 mille di dollari. 10%. Se prenderemo 5% per la inversione produttiva, potremmo 130 mille di dollari. Questo è più che il prodotto interno brutto di Uruguay e di Ecuador. Se prenderemo 5% solo per la distribuzione gratuita, potremmo 130 mille di dollari per prodotti gratis. Per ottenere la necessità di più di 1.000 milioni di gente che sta sotto la linea di pobreza nel mondo. 40% della popolazione del mondo vive con meno di 2 dollari al giorno. Quindi possiamo avere milioni di circuiti economici solidari locali, integrati in lezioni globali. Però perché questo non succede? È la domanda. Se questo è così evidente, se questo è così chiaro, se questo è così evidente. Perché questo non succede? Perché noi abbiamo un problema che sta mal planteato a noi tutti. Qual è il problema che sta mal planteato? Il problema del mercato. Tutti stanno dicendo che necessitiamo di mercato. Abbiamo produzione, però non abbiamo mercato. L'attività dei prodotti di qualità, però non abbiamo mercato. Necessitiamo di mercato. Però che è il mercato? Non è possibile liberare le forze produttive se noi stiamo cercando il mercato come sistema di intercambio. E perché? Un sistema economico ha tre elementi. Un modo di produzione, un sistema di intercambio e una formazione sociale. Tre cose che sono componenti di un sistema economico. Il modo di produzione ha a vero con il lavoro che genera un prodotto. Genera un prodotto. Produttos che sono particolari, concreti, che hanno valore di uso. E ci sono i produttori. Questo è il modo di produzione. Però come è che questo prodotto dopo è cambiato per altro? Quindi c'è un sistema di intercambio. Questo prodotto può essere cambiato per altre cose. E come si organiza questo? Con base a una formazione sociale, con sue regole. Etica, politica. E come va a funzionare questo? Beh, come funziona questo dentro di un sistema dove il valore ha rappresentazione. Quando il prodotto va al mercato, sua particolarità sta all'interno, però il deve convertirla in altra cosa. Qual è la altra cosa che la gente vuole quando va con il prodotto al mercato? Che è che la gente vuole un simbolo di valore. Però, che è questo simbolo di valore? È il diritto. Il diritto è un papelito che ha alcuni numeri di una stampa, che è fatto in alcun lugar, e che circola per un spazio come una rappresentazione di valore. Però, più che rappresentazione di valore, è una riserva di valore. Perché? Perché c'è una struttura politica che garantisce che quel papel può essere cambiato per altre cose. Ha leggi di contatto che regolano come questo signo è emitato, come si può essere appropriato, come si può essere appropriato di valore. Per fare cosa con questa appropriazione di questi signi di valore? Acumulari valore. Perché la logica è di come si cambia il prodotto per questo papelito, perché questo papelito ci permette poi fare cosa? Cambiarlo per qualche altra cosa. E poi mettere in la produzione di altri prodotti e tornare al mercato per fare che cosa? Acumulari valore economico. Quindi, nel capitalismo, il sistema di produzione è basato in la explotazione del lavoro. Il prodotto va al mercato e si vende per un valore, non si lo pagano i lavoratori lo che hanno prodotto. Però i consumatori anche pagano per un valore che è molte volte injusto per il prodotto. E al final c'è un processo di accumulazione. È la classica fórmula di dinero, mercanzia e più di euro che si obtiene nel circuito capitalista. E la formazione capitalista con il suo stato va a garantire il mercato e i signi di valore. Però il problema è che è che per che il valore e il mercato di valore. E se volvide a avere una valore. Il mercato è un mercato che si non è in mercato. È un mercato che si è in mercato. Il mercato è un mercato che si è in mercato. Il mercato non è in mercato. con dinero, se io sono uno di questi più di un milion di persone che vive in la hambruna nel mondo e io non ho avuto, mia hambruna non è demanda di mercato, perché nessuna empresa va a vendere per me nulla, perché non ho avuto il dinero, quindi il dinero deve essere escasso, però quando il sistema capitalista va vendendo, vendendo, la gente non ha più di nero, che ha il sistema per seguir vendendo? Empieza a fare crédito alla gente e la gente si va endeudando per avere dinero per comprare nel mercato e al final sono tutti endeudati e non c'è come quita le dute e quindi abbiamo ciclicamente una crisi del capitalismo, perché non è che la gente non ha condizioni di consumire lo che è producito, quindi me pide che hable più spazio, però il tempo è corto. Quindi, il mercato non può essere giusto, non c'è un mercato giusto, non c'è un mercato il mercato sta fondato in la escasez del dinero, il mercato dice che su necessità può essere attendita se si usted tiene dinero, se usted non tiene dinero, su hambre non esiste per il mercato e non c'è un mercato giusto, non c'è un mercato giusto, non c'è un parte alguna, però noi possiamo organizare circuiti economici solidari che siano giusti, perché? perché possiamo generare signos di valore per attenderi le necessità delle persone secondo le forze produttive che già abbiamo liberate in nostri circuiti economici, sì? Noi necessitiamo usare le tecnologie di informazione che ci permettono organizare circuiti di informazione di valore economico in delle collaborazioni che possono molto bene sostituire questo dinero di paper impresso per il Stato e nelle nostre redes di economia solidarietà che permette di assegurare l'attenzione delle necessità di tutte le persone. La nostra necessità di affetto, di amore, di carino non può essere attenderi nel mercato. La nostra necessità di amore, di solidarietà non può essere attenderi nel mercato, però sono i nostri intercambi solidari che ci assegurano di vivere come dei esseri umani. Non c'è persona senza comunità, non c'è comunità senza persona. Non c'è più tempo. Non c'è più tempo, no? No, no. Conclui, conclui. Sì, quindi per concludere tre minuti. Tre minuti. Per concludere. La prima persona che ha fatto una critica profonda di questo, della logica del mercato, ha stato uno dei fondatori della economia social, ha stato Karl Marx. Karl Marx, in le noti di James Mill, ha detto una cosa molto interessante. Cristo, Cristo, Jesucristo, Cristo, è il mediatore di tutti gli altri. E Cristo è il mediatore di tutti gli altri altri. Questo è scritto da Marx in le noti di James Mill. Però, dopo che dice, il capitalismo è una religione, una gran religione con i sui diosi. Il mercato è il mediatore. Il mercato è il mediatore. Il mercato è il mediatore. Tutto che tu necessitai devi andare al mercato. Il mediatore delle persone tra loro, di loro e di loro. Il mercato è il mediatore delle persone con il Dio che è il capitale. Non c'è come trovare la vita per la humanità che non sia per il mercato. Tutti le necessità di mani si trattare in il mercato. E tutta la economia solidaria che si tratta di essere, sarà che per il mercato. Perché il mercato è il Dio. Se non fossero per il mercato, non saranno al mercato. Non saranno al dinero, non saranno al capital. Che è il Signore di tutto. Il Signore di tutto è il capitale. E se vogliono essere con il Signore di tutto. Il Signore di tutto è il capitale. Tiene che andare al mercato. Tiene quello che questo Signore è il suo rappresentante. Che è il suo dinero. Quindi abbiamo una grande religione. Nadie arriva al capitale se non per il mercato. Felici sono quelli che respetano le leggi del mercato. Perché questi saranno i benaventurati del capitale. Quindi abbiamo qua tutta la religione del mercato e del suo denaro, del suo dinero. Però non è così. Non è così. Non è così. E' così. Le persone con un'immunità. Per cui ci sono stati. Ci sono stati e non sono stati di più persone. Le persone con un'immunità. Le persone con un'immunità. Le persone con un'immunità. Non sono stati e non. Le persone con un'immunità. Le persone con un'immunità. Orvi, noi siamo stati che potenitono le nostri necessità. Per questo vi ha detto, ». Grazie.